Ma quando si fa sera E siamo giunti all'ultima pellicola, la sesta, il magico Natale di... Di Rupert, Rupert, questo è un'animazione, misto live action, animazione italiana, uscita Uscita la prima volta nel 2004 Infatti è un ritorno Flavio Moretti, sì sì, che era stato visto da poche persone Effettivamente è una cosa che vale la pena Perché è una tecnica, si chiama la prospettiva forzata Che io non ho mai visto, che non conosco Dicono, quello che leggo mi dicono che è un immaggio agli anni 80 Questo però non lo so Tutto avviene, la storia del ragazzo Rupert Che viene scaricato tutti gli anni dai genitori Presso la nonna un po' cattiva, un po' bisbetica Dove combina sempre dei guai E apre un certo armadio dove escono delle cose pazzesche, alieni Insomma succedono molte avventure Tutto intorno al Natale e tutto intorno a un adolescente non amato dalla famiglia È un film curioso, divertente Dovrebbe diventare un classico questo Secondo me questo è uno di quei film che tutti i Natali si dovrebbe vedere Perché è speciale, non abbiamo nulla di simile in Italia così Devo dire che non l'ho visto neanche all'estero Per cui è una cosa che porterei Anche se non è solo per bambini Cioè molte cose non le capitano Stipe dalla casa È un film appunto che ha avuto una vicenda produttiva molto travagliata Che gli ha impedito nella sua prima uscita di essere visto Il regista è un ragazzo Ormai non più tanto ragazzo Insomma che aveva esordito i primi anni del Festival di Torino Con un altro cortometraggio fatto con la stessa tecnica È un film secondo me molto interessante Prima si parlava di Luc Besson E della sua volontà di proporre un'animazione all'europea Questa forse è più interessante e più originale di quella di Luc Besson Dina? A me è un film che ricordo del 2004 Devo dire che non ebbe molta fortuna Anche perché tra l'altro Moretti era Sì Moretti Flavio era uno un cortista molto apprezzato E quindi delusa Però invece c'è questo gusto retro E questa mix di animazione Di personaggi animati Si mettono gli occhialini tridimensionali E ci sono i fumetti che prendono vita Insomma è questa macchina del tempo che arriva E lui riceve un pacco dall'altro Sperando che sia quello di Babbo Natale Invece escono fuori da questa scatola Tutti questi mostriciattoli alieni Che gli vanno a riempire la casa No è molto carino ed è un fantasy italiano Proprio perché è italiano È da vedere Lo caldeggio vivamente Massimo Bertarelli? Ma è una specie di favola surreale A tratti molto riuscita Direi che è spiritoso Ha dei tocchi di umorismo molto raffinati Non so se è più adatto ai bambini Credo che sia molto più adatto ai grandi Comunque è un film da tenere presente Da andare a vedere Per chi e credo siano quasi tutti L'abbiano perso allora Professor Caramiello Professoressa Giannini Di questi sei film Grazie a tutti